buongiorno anzi buon pomeriggio visto che sono le quattro passate chi è qui un cancelletto qui guarda il cancelletto di di olga e aspetta è olga ecco sono praticamente a casa di mia zia da un paio di giorni perché lei è partita per il suo compleanno e quindi io dovevo badare a olga nel suo cane nella pazzole che vi ho appena fatto vedere e adesso marco è andato via devo accendere la luce l'accendiamo così marco è andato via che aveva da fare a casa e io sono rimasta perché mia zia comunque torna verso le verso le quattro oh scusa olga lei è olgona olgona olga che poi la padrona di casa e quindi praticamente sono qui da un paio di giorni ma comunque fra un po' esco perché vado con i miei genitori da trovare mia sorella e mio nipote nel frattempo le zia mi stanno mangiando viva cioè una due e trecento praticamente e niente adesso risistiamo il letto e poi vado giù che devo lavare i piatti e mia zia torna verso le verso mezzanotte comunque sono le si il telefono ma non vedo non posso vedere ora e basta marco doveva andare a casa perché doveva farsi la barba farsi i capelli tosarsi perché comunque è una settimana che non si fa la barba quindi iniziava a somigliare un pochino a buon natale quindi era il caso di farsela io resterò a dormire qui perché appunto a mezzia torna tardi cioè resto a dormire da mia madre aspetto mi zia per ma che capelli ho la pazza proprio mamma mia vabbè e quindi ho da dormire da mia madre quindi da quest'altra parte di muro e perché avrete mia madre mia madre le mie zia abbiano una canzone una pressa all'altra abbiamo quattro villette una pressa all'altra e l'ultima era di nonna e e quindi ho da dormire praticamente di qua da mamma cameretta che era mia perché resta ancora mia visto che praticamente il mio due oltre settimana è il mio ufficio e nient'altro quindi era solo per farvi un salutino per augurarvi per quel che resta buona domenica e basta sto andando un po' di video un po' di lavoricchiando cose di routine diciamo e poi altro dirvi ah beh se vi va seguitemi su su instagram penso che a breve farò un giveaway anche lì perché comunque è da un po' che non li faccio e mi faceva piacere appunto fare un giveaway per chi mi segue il link lo trovate qui sotto comunque mi trovate come corner curvi su su instagram oddio se senza nemmeno massacrato proprio e basta che altro dire buona domenica buon inizio settimana e penso ho caricato mi sembra ieri un nuovo video quindi lo trovate nel ve lo metto il metto il link qua anzi va qua e quindi cliccare andare a vederlo è un tutorial di make up sperando che vi piaccia e basta al prossimo ciao